Ciao ragazzi, io sono Falcone e oggi siamo qua con un nuovo primo contatto piuttosto particolare perché siamo impegnati con Die for Valhalla, un gioco attualmente su Kickstarter cioè stanno promuovendo il prodotto e sono qui per fare un video appunto un po' insolito perché grazie a un'iniziativa un po' particolare del team di sviluppo io quest'oggi proverò appunto la demo di Die for Valhalla e fin qua tutto regolare, nel senso vi farò vedere il gioco com'è ma la cosa interessante è che se dovesse riuscire a completare questa demo che a detta di sviluppatoria è piuttosto complicata avrò in regalo delle ki del gioco da farvi avere a voi per cui è un qualcosa di piuttosto stimolante, sussiccata da parte mia perché appunto attraverso un video avrò modo poi di farvi giocare anche a voi e la cosa mi esalta non poco e la trovo anche una gran bella iniziativa da parte del team di sviluppo detto ciò, a sto punto partiamo, vediamo se me la cavo anche perché non l'ho ancora provato il gioco proprio per rendere la cosa quanto più normale possibile e va bene che devo fa? ok parte da solo, bene allora Midgard è minacciata da delle forze mostruose e Odino ha mandato delle valchirie senza paura per combattere questi mostri appunto per combattere questi mostri e le forze responsabili per il loro arrivo ce la posso fare oggi, c'è una lingua che mi sa cartoccia tutorial, sì direi che lo facciamo il tutorial quanto meno per farci un'idea di ciò che ci aspetta e sperare di riuscire a completare questa demo e non so se sarà così semplice allora mi sembra ferma i mostri nella terra degli uomini ok io con questo attacco con questo chiacchiero ma lo scopo non si capisce con questo arretro e con questo vado di spada potente per cui ho due attacchi lo scatto ok impara ad attaccare vabbè fin qua quindi movimenti anche ok oppure questo l'avevamo già visto senza bisogno del tutorial bene ricordati nel mondo degli uomini tu puoi morire e speriamo di non farlo dunque per finire la tua missione usa gli eroi del balalla ah ecco non chiacchieravo potevo evocare gente bene allora loro possono saltare al posto di evocare attaccare stordire con Y sto giocando su PC ma fortunatamente è già pienamente compatibile il pad e vabbè questo è classico ok la schivata e due attacchi questo abbiamo questi sono gli orb della gloria e la gloria rende eroi i vichinghi Odino benedice dunque ah la benedizione di Odino renderà vichinghi gli eroi più forti ovvero così ah ecco sono diventato un super vichingo carinissima sta cosa premi R per mandare i vichinghi al balalla perdranno tutta la loro gloria ma potrebbe servirti alcune volte vabbè devo farlo per forza addio quindi sono ritornato a essere una valchiria puoi morire attraverso un colpo di spada sei un essere mortale fai attenzione vabbè quindi adesso voglio evocare un guerriero con con scudo per esempio che si può parare vedo con LT ci sono nemici dietro a questi cespulli eeeh vabbè devo fondamentalmente devo fargli tanto male mamma mia bene ho comprato il livello ok ce la posso fa eeeh cercherò di guadagnarmi queste key per voi oggi sperando di riuscirci ci sono anche delle combo a quanto vedo da questa schermata di caricamento così dice quanto meno allora io sono un vichingo di livello 1 al momento con la possibilità di parata io direi che mi va bene questo per adesso poi se butta male ci penseremo allora schivata va bene ok ce l'ho ce l'ho aia ah ma secco così proprio spietatissimo il gioco spietatissimo vabbè andiamo a prendere un altro no quello è già morto bene ah no sono di nuovo vivo cavolo pensavo che fosse finito più semplice sinceramente eh va bello una volta ne freghi due no eeeh poi non so cosa sia ma no mi sono mi sono colpito da su che cosa ah ho completato il livello fermi tutti va benissimo così eeeh cavolo ma è lunghissima sta demo allora eeeh sarà sarà durissimissima dunque eeeh potenzialo da valchiria sette rune l'abbiamo anche le skill premia per scelere una nuova skill eeeh più gloria quando si hanno gli hp al massimo eeeh possiamo possedere cose come i cespugli e i barili oppure eeeh doppia gloria per aver ucciso nemici che non ti hanno neanche mai colpito mi piace questa ok sette rune che ci faccio aaaaa allora energia vitale energia vitale non so cosa sia energia vitale forza fisica immagino ok è andata allora questa era una piattaforma di potenziamento quindi aia dove sto io ah ecco eeeh quindi vai vai ok mi servirebbe se vabbè eeeh santo cielo aiuto aiuto tipo cattivissimo lo scagnozzo lo scagnozzo menaglie menaglie niente non aiuto 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 berserker berserker bello la donna berserker andiamo fino a fine del gioco questa dai la vinciamo noi aiuto un portale di rinascita di qualche tipo aiuto non ho non ho possibilità di rinascita aiuto sono morto ma porca miseria eeeh ah ecco tutte le tue skill sono finite beh fare cominciare da cavo no ma come ma è tipo ingiustissimo ucciso da ragno mi rifiuto in maniera veramente categorica comunque è veramente bastardissimo sto gioco cattivissimo spietatissimo i dannati arcieri stanno morendo da soli si fateli morire ok l'arciere capo è morto tutto resto manchi tu manchi tu nano maledetto ok niente speravo che fosse finito il livello invece anche no gloria dagli gloria dagli gloria niente già è morto vabbè ma porco giuda però dai 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 ho mai faticato tanto nella mia vita in un gioco c'è la miseria ok il capo è andato io devo 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 ricaricarmi l'energia livello 16 ok carico so carico c'è la miseria sti sti arcieri facciamo così per lo meno come energia vitale sto a posto era l'ultimo era l'ultimo ce la posso fa allora qua abbiamo fatto tutto abbiamo fatto tutto manca questa questo livello qua nelle caverne che sono quelli che mi terrorizzano a morte ah beh però siamo siamo belli carichi siete sicuri di questo chi va per primo quello quello coraggioso vabbè vado io ho capito maia maia vabbè ma anche gli altri potrebbero entrare no signori che dite niente non non stanno bene l'hanno detto ecco ah la parata nel momento nel momento clou ok no l'arciere maledetto no eh eh che veramente tutte le orte arciere ok ce l'ho ce l'ho no 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 vita 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 niente lo sapevo lo sapevo lo sapevo ok era quello drammaticamente più complicato quello volante in formato boss dai 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 abbiamo tutti ecco calma 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 ok ci sto a prendere la mano un po' ma ci sto a prendere la mano non me morì non me morì adesso eh non me morì adesso niente è morta adesso non so manco perché ma dai 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 ah per i cosi che volano mi sa aia via 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 vai che è un altro compagno di viaggio ah beh liberate tutti niente sono morti tutti io faccio in modo che il tizio si ammazzi da solo mi sa eh aiuto non siamo a fare non siamo a fare ok ho vinto non c'è segreto allora il boss è andato eeeh che devo fa' ancora io per finir sta demo quanto me dovete fa' soffrire ancora è diventata una sorta de de incubo allora io mi prenderei l'uomo con spada e scudo per non saperne leggere ne scrivere d'altro è complicatissimo seeeh capirai e chi ha fa' qua passate voi passate voi io aspetto non c'ho fretta tanto venite venite prego prego facciano lor signori mamma mia che fatica sto livello allora mi fate potenziare una volta l'ultima non mi fanno potenziare vabbè eeeh sembra sia sembra sia l'ultimo livello perchè non vedo altro per cui ci siamo se non rovino tutto adesso ci siamo tirate fuori tutto quello che potete tirare fuori potenziamenti per me grazie ok ho un arciere maxato più di questo non posso fa' allora aia oddio dai 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 il cuore è con me bene ok calma e sangue non freddo freddissimo qua sono tutti morti un'altra valchiria eeeh questo non è cioè ciò che è accaduto adesso non è la cosa peggiore qual è la cosa peggiore? un boss della madonna? dobbiamo fermare questo tutto questo ho sentito delle vibrazioni su schermo piuttosto evidenti il che mi fa pensare che ci sia un altro gigante nano non ci accogliamo eh mamma mia numeri da circo allora mamma mia che rischio livello completato? buoni tutti aia è apparsa un'altra cosa io voglio potenziarmi perché non me lo fate fare? perché? ah dunque allora mi sento come se non dovesse mai più ritornare e mi devo sbrigare vabbè credo che volesse dire mi sento come se fossi sul punto di andare in una missione da cui non tornerò mai e infatti c'è un boss bene ma che no vabbè eeeh è la cosa non ce la faremo mai con questo personaggio non ce la faremo mai ce la faremo mai ci devo credere ci devo credere in qualche modo so che è dura ma ci devo veramente credere vabbè ma eeeh io ce credo però si faglie male ah oh santo cielo no vabbè non è l'arciera è una bomba contro tutti tranne quelli volanti con quelli volanti ok prendiamo il berserker per far fuori quelli volanti mena 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 mamma mia non posso morire adesso non posso morire adesso ah stop e morire stop e morire dai 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 All'attacco, all'attacco Via, 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 via Allora, arciere, arciere Dai, 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 dai La berserker No, non gli fa aprire il coso Ci credo Ah Arciere, arciere Non ce se fa Piano, piano Dai È quasi morto Calma, calma È morto? Devo uscire solamente i due piccolini? Ce l'ho fatta, credo Credo di sì Sì Ah beh, c'era quello dentro, bene Ha contribuito anche lui Quindi Ho vinto C'è molto di più, oltre a questa grotta Dovresti andare Dovrei andare dove? Dove devo andare? Ce l'ho fatta Sì, ma non è stato Sigurd Sarei stato io In teoria Livello completato Quindi È finita? Penso che sì Ragazzi A quanto pare vi ho vinto Un paio di chi Allora Credo di sì Nel senso Non vedo altri livelli Per cui ce l'ho fatta Teoricamente Sì Sì Sì, ce l'ho fatta Bene ragazzi Io con Con estrema gioia Allora vi posso anticipare Che a breve Attraverso Telegram Vi avvertirò Quando avrò a disposizione Queste chi Per cui Date un'occhiata lì Come al solito Trovate il link Al gruppo In descrizione E spero che vi sarei divertiti Quanto meno A vedermi sclerare In questa Ora e mezza Che per voi sarà Molto molto meno Ma sappiate Che il counter Il mio timer Conta adesso Un'ora e mezza Detto ciò Vi ringrazio per avermi seguito E vi do appuntamento Alla prossima Ciao ragazzi Ciao